Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, sono Xpackard e oggi siamo con un video diverso dal solito durerà pochissimo sto video perché so che vi interessa il giusto quindi vi dico subito che questa settimana non uscirà nessuno un video horror ci vediamo direttamente giovedì prossimo perché appunto ora cominciamo a dire tutto quello che sta succedendo sul canale sull'altro canale che sarebbe Xpackard Vlog nulla, praticamente in questo momento tutti i video usciranno tutti i giovedì per adesso i video horror perché dico video horror? perché abbiamo preso una decisione ovvero di lasciare stare il secondo canale, cioè Xpackard Vlog e usarlo per precauzione in caso spero mai succeda qualcosa con questo c'è quell'altro comunque nulla, abbiamo deciso di appunto lasciare il secondo canale perché sostanzialmente abbiamo pensato che sinceramente a parer nostro avremmo potuto portare anche dei video diversi dall'horror anche in questo canale cioè non è detto che appunto questo canale sia solamente horror quindi tutto questo per dirvi solamente che da ora in poi cerchiamo quando è possibile lo facciamo ma non c'è bisogno, se voi siete qui solamente per l'horror non c'è bisogno di disiscrivervi a questo canale perché ora non faccio più video vabbè, vi spiego perché insomma in poche parole perché se no vi confondo allora in poche parole in questo canale vorrò portare un video horror settimana o due però penso per il periodo di quando finiranno le vacanze e uno non horror quindi in poche parole che non so questo periodo che magari non riusciamo a portare due video tre video a settimana vorrei fare un horror che uscirà giovedì e uno non horror che magari può essere una challenge può essere un gameplay robe così può essere un vlog sulla nostra vita oltre al fatto dell'horror e uscirà appunto un altro giorno quindi ora poi fisseremo delle date quindi voi saprete che magari quel giorno uscirà il video non horror quindi non c'è bisogno di disiscrivervi magari c'è quello lì che si è iscritto solo per l'horror e dico ah no mi disiscrivo perché comunque non porta horror raga non cambia praticamente niente se non un video in più che magari prima non sarebbe uscito sul canale quindi quel video lo lasceremo appunto a chi è veramente interessato a noi magari a chi ci segue veramente quindi ovviamente avrà meno visualizzazione e tutto però appunto è per tutte quelle persone che ci seguono veramente tutto questo per dirvi appunto riassumendo che il martedì e il giovedì usciranno un video sul canale il martedì non horror è il giovedì horror quello del giovedì il prossimo che viene è sicuro al 100% quindi aspettate vediamo anche quello di martedì se riuscirò a portare qualche cosa qualche blog vediamo qualche challenge ci divertiremo insieme quindi mi raccomando ovviamente per chi si è iscritto al secondo canale xpackard blog cioè potete lasciare l'iscrizione come no fate voi l'importante è che appunto per chi fosse veramente veramente interessato a noi che ci aspettasse il martedì di solito per le 15 qui sul canale giovedì ci vediamo con un nuovo appuntamento horror sul canale e nulla ditemi anche cosa ne pensate di quest'idea se magari ho fatto bene perché comunque cioè ripeto non avrebbe avuto senso aprire un secondo canale perché magari questo qui sarebbe diventato uno principale horror cioè quando ho aperto il canale questo qui non era la mia intenzione quindi la mia intenzione era di portare video a 360 gradi su tutto quindi sinceramente non cambia nulla ripeto perché giovedì come sarebbe dovuto uscire il video horror uscirà lo stesso cambia solamente che uscirà un video in più che non è horror quindi se non vi interessa ci vediamo due giorni dopo per il video horror ovviamente è inutile dirlo mi fa piacere vedervi anche il martedì che vi divertiate insieme a noi però ripeto se non siete interessati non c'è bisogno di di iscrivervi vi aspetto solamente il giovedì e il martedì appunto a chi è veramente interessato nulla volevo fare un video perché appunto ci ho pensato su molto e mi sembra la cosa giusta ripeto aiutatemi nei commenti a capire se vi piace l'idea se ci sarete i martedì se siete arrivati fino a questo punto del video perché secondo me molti avranno schippato e ne sarà fregato un cazzo detto questo vi invito a passare sul mio instagram che trovate sotto in descrizione xpacard.official su tiktok su twitch insomma trovate tutto in descrizione detto questo spero che questo video vi sia piaciuto insomma spero più che altro vi sia arrivati fino a qua qui da xpacard è tutto e quindi se è tutto va bene ci vediamo martedì per un video non horror e sicuramente se no ci vediamo giovedì per un video horror qui da xpacard è tutto e noi ci vediamo al prossimo video e noi ci vediamo